Anche quest'anno, come ormai da vent'anni a questa parte, riproponiamo il bue di San Zopito. Quest'anno dovremo riprendere alla grande. Abbiamo questo nuovo bue che ha iniziato il suo debutto proprio con la pandemia, nei due anni di pandemia. Per lui quest'anno sarà il terzo anno. A questo nuovo bue abbiamo posto il nome di Galante del Belvedere. Riprenderemo quest'anno questa nostra festa. Come già da diversi anni ormai, vestiremo il bue presso la chiesa di Santa Maria in piano. E da lì, intorno alle 9, con al seguito i cavalli dei vettorali, ci avvieremo verso la piazza Garibaldi. Entreremo nel centro storico, faremo la chiesa di Sant'Antonio, dopodiché la chiesa di San Biagio, poi via Montelauro per portarlo sotto l'arto di San Zopito e la chiesa di San Pietro, dove il parroco, Don Cesare, ci darà la sua benedizione. Questo riguarda la giornata di domenica. Il lunedì invece partiremo da Rione Capuccini, scenderemo in piazza, verso le 6 e mezza, 18 e 30, scenderemo in piazza e aspetteremo che arrivi la processione del Santo. Ci accoderemo alla processione e lo accompagneremo fin davanti alla chiesa, dove di nuovo il bue sarà benedetto da Don Cesta. Sono 5 i bambini che quest'anno andranno sul bue. Come ormai da diversi anni abbiamo apportato questa innovazione.